I campioni d'Italia in carica contro i vice campioni. Si rivivono le emozioni della finale dell'anno scorso nel quartultimo weekend di regular season che vede la fortitudo Bologna opposta al Rimini Baseball. Si tratta non solo di una delle sfide più sentite del campionato, ma anche di un confronto di livello se si pensa che negli ultimi tre anni le due squadre si sono affrontate per lo scudetto nell'Italian Baseball Series. Quest'anno i pirati, rinnovati nella guida tecnica e nel roster, hanno iniziato la stagione con qualche difficoltà che stanno ancora pagando in termini di classifica. Con 15 vittorie e 11 sconfitte occupano la quarta posizione. Tre lunghezze separano oggi Bologna e Rimini, ma i petrioniani al momento buttano un occhio avanti pensando a un difficile aggancio ai titani, impegnati in casa in un abbordabile impegno contro il Padova, mentre i romagnoli guardano con preoccupazione il possibile avvicinamento della squadra ducale che sabato è attesa da un agevole, almeno sulla carta, doppio impegno casalingo contro il Padule. All'andata la sfida finì in pareggio, con due successi casalinghi per Bologna in gara 1 e per Rimini in gara 2. Due partite equilibrate, finite entrambe con il risultato di 2 a 1. Forse il weekend più difficile per la fortitudo in tutto il girone d'andata, compreso il breve prologo della prima fase. Confermati i due lanciatori partenti, Owens e Pizziconi, ma nelle rotazioni di gara 1 rientrerà Raul Rivero. Contro il Rimini è sempre una bella sfida, dice il manager bianco-blu, Lele Frignani. Conosciamo benissimo le loro qualità. In queste quattro settimane che ci separano dai play-off, affrontiamo, con l'eccezione del Padule, tutte e tre le squadre che probabilmente troveremo nella post-season. Dobbiamo alzare l'asticella così come ci siamo proposti nelle ultime settimane. Non basta, dobbiamo alzare l'intensità e la qualità del nostro gioco. Gara 1 si giocherà stasera la Casa dei Pirati in Riva all'Adriatico e gara 2 domani allo Stadio Gianni Falchi di Bologna che riaprirà i cancelli dopo un paio di settimane nelle quali la squadra bianco-blu ha giocato in trasferta. Entrambe le partite avranno inizio alle ore 20.30.